Situazione sempre più difficile nel quartiere sassarese di Santa Maria di Pisa. Ce ne parla nel servizio Emanuele Floris. Degrado e spazzatura, due tra gli elementi che connotano il quartiere di Santa Maria di Pisa, i cui abitanti sentono di essere dimasti ormai soli, senza aiuti dalle istituzioni. Perché non abbiamo proprio nessun servizio, abbiamo giusto un negozio alimentare, una panetteria adesso e la farmacia, basta. Per il resto non abbiamo altro, qualsiasi cosa succeda non vediamo mai nessuno. Marciapiedi spaccati, carene di moto lasciate nel verde persone che vivono in macchina. Sono tante le criticità del rione ancora senza risposta. È un quartiere di poveri, è un quartiere malfamato, però io no che pagano tutto. Non stanno pagando perché le case sono in decreto, proprio tubi rotti, tutto marciapiedi. ci hanno abbandonato, a noi ci hanno abbandonato. A gettare luce sui problemi è il comitato di quartiere, ponte tra cittadini e istituzioni. Intanto i residenti attendono da anni una rinascita. Da subito. Siamo arrivati nel 78, dal 79 stavano già aspettando che cambiasse la situazione. Ed esprimono un desiderio sul prossimo futuro del quartiere. A dare una spinta a questi di lugomune, delle case per venire e dare una mano alla gente di Santa Maria di Pisa.